Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul canale di Anikito Gelal, finalmente we are back con i video delle questioni e siamo con il signor Razor, proprio chiamato S.G. Razor Molto piacere Andate a vedere il suo canale che è in descrizione, altrimenti siete delle brutte persone Rassi dello spantattico E beh, per forza, lei mi dà una mano a fare le cose Come avete letto dal titolo, siamo qua per farvi vedere una farm in 1.15 e per costruirne un assieme al signor Razor Noi non siamo sul mondo nostro, siamo in una vanilla ma in un server gratuito che è il server della Multicore Ci sono diversi comandi abbastanza interessanti, diverse cose che si possono fare tra cui il claim e molte altre cose Ah, un'altra cosa, il PvP è disabilitato Esatto, i pin in descrizione Qualsiasi cosa, comunque ricordatevi che è un server aperto quindi venite volentieri a giocare con noi C'è anche Gioco Spork e molti altri che portano live su questa questione Prima spieghiamo un paio di cose Come si fa a claimare? Per claimare serve Dove cacchio l'ho messa? Una paletta d'oro La paletta d'oro, cliccando su un blocco Cioè non puoi claimare qui perché c'è già un claim È mio Cioè il claim è mio Anzi, aspetti Signor Razor, faccia vedere che lei non può aprire la porta Lui non può Non può rompere Non può fare nulla all'interno del mio claim A meno che io non scrivo Slash Trust Signor Razor Una S e una G Eccola qua Ora può costruire, può fare qualsiasi cosa Rimetti quel blocco dove Gli stichetti, ecco vedete? Questo è il mio claim Posso vederlo Con la paletta seleziono il claim Per avere il claim bisogna andare nello shop Su comandi E comprare I blocchi di claim Che valgono da ovviamente blocco zero fino al massimo Dell'altezza permessa da Minecraft Comunque oggi sia qua per fare altre cose Cioè per farvi vedere la cosa che sta sotto questo blocco di vetro Non lo rompa per piacere È importante il blocco di vetro C'ho le zampine, belle ferme, immobili, sto tranquillo La farm di pesca si compone di Chest In cui E gli schiaffi dritto dentro Uno per shift a sto destro Sapete già come si fa Poi dopo sopra l'opter metti una fence E sopra la fence Una pressure plate Di qualsiasi genere Chi se ne frega Non cambia minimamente Il rate di pesca Poi bisogna far Siete poveri Esatto Bisogna farci un buco di fianco Così l'acqua non vi va in giro a rompere le cose Ci cacciate sopra l'acqua Qui dietro ci cacciate Il Esatto Il Quello che suona Sopra ci mettete un qualsiasi blocco Così sta zitto non fa casino E qui davanti ci mettete Una bellissima Iron Traptor Mi raccomando Questo invece è importante che sia di ferro Decorazioni aperte Perché come vede C'è tutto spasso Qui c'è il mio portale del nether Che porta al nether Lì c'è Il letti Questa è roba che per sbaglio Mi sono portato a casa dal land Qui serve ad incantare Qui serve a fare le cose Qua di sotto c'è Un bel sorting system Perché la tecnologia a me piace E il sorting system Vi andate a vedere il video Perché l'ho già fatto Recuperiamo la shulker box giusta Che è questa qua Non vi ho fatto vedere cosa c'è dentro Ma c'è roba per una farm di cactus Fondamentalmente Lei cosa ci fa sulla shulker box Non si vergogna Io le evito Ecco Comunque siamo qua Perché avevo fatto questo sistema Allora l'ho fatto e poi l'ho smontato Non c'è niente dentro Serve a raccogliere i cactus Fintanto che la farm non arriva fino al cielo E adesso mi prendo un po' di questionaggini Che mi servono Perché questa non si ghiaccia L'acqua non si ghiaccia Perché se non lo Non so se lei lo sa Ma se mette una slab di fianco all'acqua L'acqua non ghiaccia Mi ricordavo il trucchetto della torcia Ma buono sapesse Eh no La torcia è diventata più stronza In questi In queste ultime versioni di minecraft Però vabbè Facciamo tinta di niente Allora Ok Ah a lei gli piacciono anche le palle di neve A me non piacciono le palle Questa cosa è parecchio fraintendibile Allora La farm di cactus Non quello di lol È molto molto semplice Sto facendo un'operazione abbastanza importante Perché bisogna creare dei piedistalli Che non interagiscano troppo con la watch Con l'acqua Perché altrimenti poi i cactus non mi vanno in centro E io voglio che vadano in centro Poi sopra a queste questioni Ci mettiamo altre questioni Che è la sabbia Perché il cactus cresce solo sulla sabione Poi sopra al sabione Ci bisogna mettere il cactus incredibile della vita Ma prima di metterci il cactus Bisogna fare un'altra operazione importante Perché voi dovete pensare che Il cactus sta qua Ok? No? Mi segue il signor Razor? Sì Mi dica se è corretto Poi il cactus cresce di uno E io voglio che questo cactus sdroppi Signor sei capitano Ho ricevuto Perfetto Volendo che questo cactus Sdroppoli Io devo mettere un pezzetto di vetrame Che in questo caso è questo qui Cioè perché uso la lastra Perché occupa poco posto Perché quando farò le colonne Cioè ci saranno altri cactus sopra questo Voglio essere sicuro che caschino nell'acqua E quindi ci metto questo che occupa poco posto Qui e qui E quindi faremo delle linee Ecco vedete? C'è soltanto il piccaglio questo qui stretto Però quando cresce si attacca al cactus E dopo il cactus sdroppa Casca in acqua Così come No Aspetti Sdroppa come questo qua Viene buttato Così E casca nell'hopper Va di sotto E ora bisogna fare la stessa cosa dall'altra parte Un attimo che devo vedere Dove sono Ok l'astra di vetro è qua Quindi andiamo da quest'altra parte E ripetiamo l'operazione Ok Figlierei un attimino di cobblestone Se non le dispiace È nel magazzino Quello automatico Quello automatico Nel sorting system Allora Allora scenda dalla parte dei ca... Vede il fumo? Allora vada verso il bambù Sì Ed è qua sotto giusto Esatto Se vede il fumo Vuol dire che è arrivato Comunque Questa zona è strategica Perché oltre a essere in alta montagna E la montagna mi piace Perché i buchi mi piacciono Anche questo È proprio È la descrizione Proprio Calzante Ma sarei Con me ci abita anche Jimbo Se non lo conoscete Un altro raga Arca miseria son cascato Arca miseria son cascato È romagnolo puro Questo è proprio una roba Ok Tra l'altro Non serviva Non serviva Si riavvierà Bene Che palle Come si riavvierà Come un minuto Ma io sto registrando 5 4 Fatto Perfetto Ho sbagliato il timer Vai così Perfetto Oh ti fanno i regali Sì Aspetti perché Una volta mi hanno fatto un regalo Però Mi hanno teletrasportato nel pvp E mi hanno chiamato tutto Mi ha detto Sì accetta il tp Bastardo Ci sono un po' infamelli Quelli Però sono bravi Alla fine A me non ha dato fastidio Perché tanto non mi interessa Nel senso Io non me la son presa Perché anche se avevo Della roba con Bendy Ma chi se ne frega Cioè c'è la farm Lascio lì Ti costruisco quello che vuoi Dove e come vuoi Approfittiamo e facciamo Delle richieste astruse Voglio un pene Tra le chiave No scherzo Signore e signori Abbiamo finito di fare la questione Come vedete abbiamo lasciato gli scaffolding Perché siamo delle brutte persone Siamo pigri Esatto Siamo pigri E non abbiamo voglia neanche Di cavare questi Quindi Ma l'altro giusto Sembra anche carino Sì dai Se lo guardi da qui non fa schifo Se lo guardi dall'altra parte fa schifo Comunque Ora bisogna cavare Le questioni di troppo Non ho Ho visto un essere sbagliato anche Un essere sbagliato tipo? Un creeper Dove? Dove l'ha visto? Sulla shaker box Ah fuck Eh Ok è morto Allora Prima di combinare danni Direi che potremmo andare anche a dormire Che ne dice? Sarei d'accordo Adesso posso scendere Prima devo craftare Il coso che non mi ricordo Come si chiama Lei se lo ricorda Come si crafta Il cestino Per il rusco Il cestino? Sì quel coso che fa Il coso che fa cose Ci sta Il coso delle cose Lì Non ha presente? Sì Il coso che contiene le cose Sì Il coso che fa le cose Non ha presente il coso che fa Ecco il composter Ah servono solo delle slab di legno? Davvero? Allora Per chi non lo sapesse Questo coso interagisce con gli hopper Quindi noi cosa faremo? Cioè questa cosa qua Trasforma tutto ciò che è organico In Bon meal E dato che noi amiamo il bon meal Fare E questo coso interagisce con gli hopper Faremo la cosa seguente Quindi qui sotto c'è un hopper Con l'acqua Quindi noi parcheggiamo la questione qui sotto Poi vogliamo che porti ovviamente Tutto nelle nostre C'è bellissime Comodissime Cest Perfetto In queste tre cest Con tre bellissime hopper Che al momento sono soltanto due Perché un altro è di sotto Adesso lo vado a prendere Ci trasporta tutta Le bellissime questioni Nel posto giusto Ecco qua E ora qui dentro Pian piano Quando sto coso Si riempie Salve salve C'è anche gioco sporco Lo salutiamo Ecco qua Da qui Ecco qua Ocio non cadere Che siamo qua dritti Sulla cima del niente Detto questo Un ringraziamento Al signor Razor Che mi ha dato una mano Per questo bellissimo progetto Spero che a voi vi sia piaciuto Spero che a voi vi sia piaciuto Detto questo Un saluto Vi aspettiamo sul server Se volete anche interagire con noi Non è un grosso problema Un saluto Un abbraccio Ciao a tutti Ciao 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 Ciao